per iniziare la meditazione di oggi sparto da un'esperienza, non so se è un'esperienza personale oppure se è molto condivisa quello che suscitano in noi i collezionisti cioè quando tu entri nel mondo di un collezionista hai contemporaneamente un senso di attrazione ma anche di repulsione cioè hai un senso di in tutta questa realtà così controllata ti affascina perché vedi tutto così ben messo, tutto in ordine, tutto preciso però allo stesso tempo anche un senso di quasi immediatamente di paura paura come ti muovi, come sei messo cioè percepisci, immaginate se entra un bambino nel luogo di un collezionista cioè il terrore che si dipinge sul suo volto quindi partirei, questa realtà del controllo suscita contemporaneamente attrazione e repulsione vorrei, dalla mia riflessione di questo mese è emerso come il controllo sia pressoché inevitabile tanto che mi verrebbe da dire che ogni singola vita può essere vista come una diversa manifestazione del tentativo di controllare e incasellare una vita rischiosa cioè ogni vita è una manifestazione di questo tentativo di controllare una vita che rimane comunque rischiosa ci sono dei controlli, potremmo definirli, innocenti che sono le nostre abitudini le abitudini, quelle ritualità, quelle gestualità quella tempistica chi ce l'ha più, chi ce l'ha di meno chi ce l'ha moltissimo quelli su cui puoi puntare l'orologio a seconda di come fanno le cose spesso, non sempre, ma spesso sono forme di controllo innocenti le nostre abitudini e poi ci sono gli ambiti veri e propri gli ambiti di potere sono quegli ambiti di controllo dove, quelle situazioni della vita dove si fa come voglio io ecco, il telefono è una manifestazione plastica accessibile a tutti di un luogo dove si fa come voglio io cioè sul tuo telefono tanto che ormai è impressionante quando tu tocchi il telefono di qualcuno sembra che stai toccando la persona cioè, lo noto a volte in classe io mi avvicino quando tocchi quell'oggetto cioè, si è subito altro che, perché? perché quello è il luogo dell'esercizio totale assoluto dittatoriale del controllo sul telefonino tu sei assolutamente padrone anche i bambini quando sono piccoli sono uno di questi ambiti se dormono e se non hanno malattie quando un bambino dorme e non hanno particolare malattie è un bellissimo ambito di controllo dove tu te lo puoi spupazzare mettergli tutti i vestiti che vuoi portarlo dove fargli fare tutto quello che vuoi o gli animali domestici quindi cappotti cappottini li porti in giro li umili parlandogli cioè in un modo che un cane serio non accetterebbe il cane il cane non può dirti quello che prova per te in quel momento quindi c'è il controllo del cibo il controllo più o meno della forma fisica cioè c'è proprio un oggettivo piacere del controllo e di avere delle situazioni dove dici io sono padrone su questa situazione ma la complessità della realtà e delle situazioni vere della vita è nemica del controllo il controllo è di per sé impaziente la ricerca della comprensione della realtà la comprensione delle situazioni non può essere invece che fastidiosamente lenta il controllo esige istantaneità prendersi del tempo per comprendere le cose implica lentezza non è amico del controllo e poi dobbiamo fare tutti con fare i conti con la brama la brama di denaro proprio per il controllo che il denaro regala questo è oggettivo il denaro garantisce effettivamente tanto controllo sulle persone e sulle situazioni se tu hai moltissimo denaro puoi disporre di molto controllo su tante persone e su tante situazioni cioè puoi fare ruotare le cose esattamente come vuoi tu esattamente qual è la manifestazione di chi è molto abituato a controllare con il denaro l'ira l'ira per inezie quando le cose vanno diversamente dal programmato manifestato o non manifestato però il piglio di chi è abituato con il denaro a controllare le situazioni suscita cioè l'ira è una manifestazione di chi ha questo potere nelle mani ed è evidente quanto tutto questo cioè questo potere di controllo che ti dà il denaro assuma delle forme spesso irrazionali folli arroganti ma e uso le parole di Gesù la ricchezza è sempre disonesta perché ti illude non controlli nulla anche con la ricchezza di ciò che è veramente essenziale hai degli ambiti delle fasi della vita dei momenti della vita in cui ti illudi cioè ti credi come si dice quando uno col denaro ha un controllo ti credi un padre eterno perché effettivamente volere potere quello che vuoi si sposta con il denaro le persone sono obbligate a causa del denaro perché ne hanno bisogno magari per la loro vita uno stipendio eccetera eccetera a dire yes 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 quindi tu abituato a avere tutta una serie di persone che ti dice yes ti credi un padre eterno però è disonesto questa ricchezza perché non ti permette di controllare le cose veramente essenziali e ti dà un controllo illusorio su tutto ciò che è decisivo la vita dicevamo è paurosamente rischiosa e questa dovrebbe essere una delle prime verità da insegnare ai ragazzi la vita è rischiosa la vita è rischio ed è un rischio ineliminabile la paura della morte è la vera e unica paura perché la morte è incontrollabile la morte è incontrollabile puoi fare tutto quello che vuoi ma la morte non la puoi controllare quindi questo è il primo esempio ma abbastanza facile abbastanza forse banale insieme oltre alla paura della morte che ha la paura di non essere amati perché pure l'amore che riceviamo dagli altri è incontrollabile quindi le due cose più fondamentali la vita è la morte e l'amore che riceviamo non solo controllabile neanche col denaro il denaro non ti dà la possibilità di controllare il fatto di essere amato il denaro non ti dà la possibilità di controllare la morte l'ossessione del controllo vorrebbe eliminare il rischio di non essere amati ma questa è una illusione estrema esistono a questo proposito delle leggi non scritte ma che sono ineludibili e io vorrei ripetervele i pensieri degli altri sono incontrollabili e così gli altrui sentimenti i sentimenti degli altri quello che un altro prova per te è incontrollabile non si può controllare cioè è vietato immaginare cosa un altro pensa è vietato immaginare cosa un altro sente è vietato spiare è vietato cercare informazioni è evitato insomma controllare è vietato non ci sono se ma eh ma la sbirciatina ogni tanto controllare tutto anche eh ma l'ha messo lui anche se sono gli altri ad autorizzarti mettendo sui social tutto è vietato controllare e sbirciare il prezzo di tutte queste azioni perché dico che è vietato perché se lo fai cioè se controlli se compi queste azioni di controllo perdi la pace sempre e soprattutto perdi la persona amata a meno che la persona cosiddetta amata che non è veramente amata non sia soggetti a noi perdendo la sua libertà presumere di controllare i sentimenti altrui è folle e vietato presumere di controllare i pensieri altrui è stolto arrogante e superbo quindi non puoi controllare la cosa più importante sono amato sì o no cosa provo un altro per me vorresti fare di tutto per controllare questa cosa ma non lo puoi sapere poi c'è un'altra cosa e della terza impossibile da controllare questa volta riguarda noi sono i nostri sentimenti negativi è impossibile controllare i nostri disgusti è impossibile controllare le nostre disapprovazioni è impossibile controllare le nostre rabbie è impossibile controllare i nostri asti come si controllano? sono controllabili? che si fa quando ti invadono? quando il disgusto per qualcuno l'ira l'antipatia per l'antipatia quando l'impatia l'antipatia per qualcuno ti invade come si fa? e noi non vorremmo che si vedesse forse probabilmente solo per orgoglio non vorremmo che si vedesse la perdita di controllo che ti causa qualcuno che ci infastidisce e ci fa aumentare il fastidio il fatto che ci sta facendo infastidire noi non vorremmo infastidirci del fatto di quello lì che ci sta facendo infastidire e che si possa vedere che mi sta infastidendo e mi fa infastidire terribilmente che gli altri vedono che io sono infastidito come si fa a controllare questo? ammesso e non concesso ammesso e non concesso che un nostro una persona a fianco a noi un nostro fratello non veda i suoi difetti ammesso e non concesso mettiamo che uno sia veramente cieco su se stesso cioè che veramente non sa le cose che lo riguardano veramente non vede i suoi problemi ammettiamo che cosa lo farà svegliare cosa lo convertirà un acido disappunto una faccia infastidita e disgustata una parola aspra ecco far capire sempre e in ogni mettiamo le carte in tavola far capire sempre in ogni circostanza ogni nostro disappunto oppure ogni nostra approvazione non è sincerità e poi ci sono infine le situazioni esterne non controllabili gli avvenimenti beh ne abbiamo vissuto qualcuno qualche anno fa c'è cose che capitano che nessuno aveva mai ipotizzato potessero accadere e che cambiano di colpo la vita ci sono le crisi le perdite di controllo quei luoghi in cui tu vedi e puoi verificare se la tua casa è costruita sulla sabbia o se è costruita sulla roccia e quindi potremmo dire che forse le fughe nei vari mondi artificiali che siano droghe che siano alcol che siano sesso che siano scu cioè il piacere di perdere il controllo per illudersi che la vita sia un po' più semplice o più controllabile cioè tu quando ti o ti droghi o ti imbriachi hai l'impressione che sia più semplice che sia più controllabile non è vero però non ti resterebbe anche questo allora che fare contro il fatto che tu non puoi controllare sei tentato di controllare ma le cose più importanti non le puoi controllare San Tommaso amò la verità in maniera disinteressata tanto che una sua frase latina tradotta in italiano dice così qualunque verità da chiunque sia detta viene dallo Spirito Santo egli cercò la verità dovunque essa si potesse manifestare evidenziando al massimo la sua universalità questa è una caratteristica di San Tommaso d'Aquino che amo immensamente c'è questa capacità e questo coraggio perché ci vuole coraggio a dire la verità sempre ovunque si trovi chiunque la dica questo non è che siamo tanto formati a questa cosa qua perché se la persona che dice la verità su una cosa è una persona che magari dice tante cose orribili in altri piani noi siamo portati per paura che gli altri si confondano a non dire con forza evidenziare la verità che ha detto quella persona in questo caso vado sul tranquillo non è nessuno c'è un un cantante che a volte nei passi è venuto che si chiama Niccolò Fabi Niccolò Fabi il 3 luglio del 2010 ebbe uno dei lutti più terribili per sé all'ospedale pediatrico Bambin Gesù per una meningite fulminante la sua piccola figlia di nome Olivia e riemersa proprio riemersa dopo questo dolore cambiando completamente proprio la scrittura delle sue canzoni alcune di queste a mio avviso sono dei veri capolvori ecco qua si pone un problema io voglio farvi sentire una canzone di Niccolò Fabi perché ha la capacità con poetica di dire umanamente per quello che può la sensibilità e l'intelligenza umana dire quello che è il cosa bisogna fare rispetto alla nostra tendenza a voler controllare tutto e l'intelligenza Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non è un tempo facile neanche per i musicisti. Probabilmente ai musicisti resterà solo più la possibilità di suonare dal vivo. Vince chi molla. Lascia perdere, mollare, mollare la strategia, mollare il calcolo, mollare anche i propri dolori, senza mani, senza avversative. Ecco, mi sento di dire che, dipendentemente dalla vita personale, dalle mie esperienze personali, che qua c'è la verità. Vince chi molla. Allora voglio farvi degli esempi di cosa vuol dire mollare, perché se no vince chi molla, 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 ma in che senso? Lasciare che gli altri abbiano l'ultima parola, almeno qualche volta, almeno qualche volta. Che gli altri abbiano l'ultima parola. Precisazioni, puntualizzazioni, distinguo, sono altrettante forme di controllo, sulle parole, sulle visioni altrui che ci sono donate. Quando qualcuno dice come la vede, ha detto come la vede. C'è il controllo di prendersi sempre l'ultima parola, non lasciarla mai agli altri, anche quando ti raccontano qualcosa. Mollare è lasciare che gli altri facciano le cose senza noi commentare, senza noi puntualizzare su tutto, su come la cosa è stata fatta. Aspettare piuttosto un giorno in più, direi un mese in più, direi qualche anno, prima di necessariamente commentare di come le cose sono fatte dagli altri. Perché mollare il controllo? Cioè perché adesso, visto che vince chi molla, non so neanche se dico lo Fabi è credente o non credente, però è una verità profonda quella che dice, raccogliendo l'indicazione di San Tommaso, perché da credente? Su che cosa si fonda la convinzione di un credente che sia una verità profonda? Che vince chi molla il controllo? Prima di tutto, se uno apre il libro della creazione, l'osservazione della realtà, l'osservazione del libro della creazione, cioè osservare la realtà come l'ha creata Dio, ci dice che questo sarebbe esclusivamente razionale. Quello famoso video delle proporzioni della Terra rispetto all'universo, quello che quando un bambino, la mamma gliel'ha fatto vedere, a un certo punto ha detto, basta, basta, non farmelo più vedere, mi sta facendo paura vedere quanto siamo nulla. C'è l'osservazione della creazione. In realtà, al di là di tante parole sulla madre Terra, della Terra non interessa a nessuno, perché contemplandola noi ci sentiremmo piccoli e vedremo quanto sono ridicole, grottesche, meschine, le nostre forme di controllo su dei microambiti, delle microsezioni. Cioè l'osservazione del libro della creazione sarebbe molto utile. Il disagio nel sentirci insignificanti sarebbe un aiuto a mostrare quanto ogni preteso controllo sia, prima di tutto, irrazionale, irrazionale. E il secondo libro? Ci sono due, creazione e rivelazione. Ecco, io vorrei lasciare stare le pseudoteologie. Cosa sono le pseudoteologie? Le pseudovisioni teologiche, teorie teologiche finte, sono quelle che vengono inventate da pseudoteologi per giustificare quello che lui personalmente non riesce a controllare. Cioè, quello che lui, a volte, il teologo personalmente fa fatica a controllare, trasforma in una teologia. Nascono così le teologie moderne. Lui fa fatica su una cosa e si inventa una teologia per spiegare quello che lui non riesce a controllare o quello che il mondo non riesce a controllare o quello che molti non riescono a controllare. Allora si inventano nuove teologie. Ma non è così. La teologia, invece, vera, parte sempre dalla rivelazione, senza mai superare le parole di Gesù. Allora, partiamo dalla teologia, dalla rivelazione. Cosa vediamo? Vediamo un figlio che ha accettato, seppur nella paura, una storia, una morte, che non ha potuto controllare, non ha potuto dominare. Questo è il cuore della teologia cattolica. Da qui deve partire una riflessione di fede. Una riflessione teologica, con l'intelligenza, deve partire da questo dato. Il figlio di Dio ha accettato, seppur nella paura, una storia, una morte, che non ha potuto dominare. Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Si allontanò una seconda volta e pregò dicendo Padre, Padre mio, se questo calice non può passare via senza che io lo beva, si compia la tua volontà. Custodito Gesù da un papà che gli chiede l'abbandono, gli chiede la perdita di controllo. Potremmo dire, se c'è un proverbio che dice talis pater, talis figlius, cioè, com'è il padre, così il figlio. E anche se il pater è il pater nostro che è nei cieli e il figlio è Gesù, potremmo dire talis pater, talis figlius, cioè, Gesù, il figlio, chiede lo stesso abbandono della volontà propria a chi lo vuole seguire. Come il padre lo vuole con lui, lui lo vuole con noi per essere i suoi discepoli. A noi, Gesù chiede di essere senza freni in Dio. Vedendo la folla attorno a sé, Gesù ordinò di passare all'altra riva. Vi farò degli esempi. Allora uno scriba si avvicinò e gli disse, Maestro, ti seguirò dovunque tu vada. Gli rispose Gesù, le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo hanno i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. E un altro dei suoi discepoli gli disse, Signore, permetti prima di andare a seppellire mio padre e mia madre. Ma Gesù gli rispose, seguimi e lascia che i morti seppelliscono i loro morti. Cioè, Gesù che si rende come lo vuole il padre, rende noi come lui. Cioè, ci vuole incontrollabili come lo è lui. Il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. E questo vuole fare con ogni suo vero discepolo. Ci ricorda sempre questa vera teologia, partendo dalle parole di Gesù, non dalle idee comode. Gesù ci ricorda sempre l'assurdità di voler controllare la vita. E chi di voi per quanto si preoccupi può allungare anche di poco la propria vita? Chi di noi può farlo? Non giurare neppure per la tua testa perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo cappello. La vita è indisponibile e rischiosa e Gesù ti ricorda che è incontrollabile. Non la puoi controllare. Altro esempio, altra parola di Gesù, sempre sullo stesso argomento. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante e egli ragionava tra sé. Che farò poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Fare così. Demolirò i miei magazzini, ne costruirò di altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso anima mia hai a disposizione molti beni per molti anni riposati manza bevi e divertiti. Ma Dio gli disse stolto stolto questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita e quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio. C'è la stoltezza di pensare di controllare la vita. La ribadisce continuamente Gesù. Quindi fede è solo quando c'è la perdita del controllo diretto su una situazione. Se tu vivi una situazione stai vivendola con fede solo in una condizione non quando hai un sentimento di fede quando c'è una perdita di controllo diretto su questa situazione San Paolo come ogni vero cristiano dice sono stato crocifisso con Cristo non vivo più io ma Cristo vive in me cioè fede è tutte e sole le volte tutte e sole le volte in cui lascio veramente sinceramente e dolorosamente il controllo a Dio lì solo lì c'è fede non dobbiamo farci delle illusioni su questo quando c'è veramente fede quando veramente sinceramente e aggiungo dolorosamente io lascio il controllo a Dio della vita e basta raccontare di essere consegnati dovendo spiegare con mille narrazioni ingegnosi in che senso siamo consegnati se sei consegnato veramente a Dio sai cosa fai? Taci taci se sei consegnato a Dio taci sei uno che tace quasi sempre rinunci ad esempio a voler controllare i mali della vita quando addirittura Gesù ti dice avete inteso che fu detto occhio per occhio dente per dente ma io vi dico di non opporvi al malvagio anzi se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra tu puoi rigidi anche l'altra e chi vuole portarti in tribunale a toglierti la tunica tu lascia anche il mantello e se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio tu con lui fanne due da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle ci fa paura sì 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 ci fa paura ci terrorizza questo perdito di controllo perché noi veramente abbiamo paura di vincere mollando perché come mi ha detto un'amica giustamente solo Cristo ti dà la forza di stendere le mani di aprirle oppure un'esperienza di dolore così mostruosa che ti porta a relativizzare abbondantemente le sciocchezze la perdita di una figlia di due anni ti porta drammaticamente a vedere su quante cose puoi stare tenere zitto su quante cose puoi perdere il controllo su quanto non siano decisive certe cose e mentre lo sono la salvezza non si controlla la tua salvezza non la controlli quindi in positivo la santità non è controllabile cioè ricapitolando e concludendo i santi che credono veramente di essere amati da Dio e che per questo non hanno paura della morte guardate questa è l'unica caratteristica di santi cioè sono quelli che hanno paura della morte come Gesù ma poi prima di morire come Gesù dicono padre nelle tue mani consegno il mio spirito sanno che la morte non è l'ultima parola oggi tu sarai con me in paradiso dice al ladrone certo di dove sta andando con Gesù superano la paura della morte sanno di essere amati padre nelle tue mani consegno il mio spirito e per questo amore ad ogni istante ad ogni istante ad ogni momento abbandonano disgusti avversioni e perdonano beato chi perdona per lo tuo amore canta San Francesco beato chi perdona per lo tuo amore i santi che mollano il controllo dei sentimenti dei pensieri altrui cioè il santo dice ma cosa ne posso fare io su quanto mi vogliono bene quanto pensano gli altri mollano questo perché sanno bene per esperienza che chi tutto per Dio lascia in Dio tutto ritrova come dice San Filippo a neri chi tutto per Dio lascia in Dio tutto ritrova abbandonare tutto a Dio tu ritrovi tutto in Dio tutto i santi consci del proprio nulla del non poter allungare nemmeno di un minuto la loro vita di non poter controllare nulla perché questa è pura razionalità i santi sono gli unici razionali potremmo dire perché sanno che di fatto non posso ma io cosa faccio controllare la mia digestione con tutte le cose io non le posso posso anche farmi gli esami del sangue ogni 5 secondi certo ma non sto dicendo di non fare prevenzione di queste cose qua eccetera sto solo dicendo che però la vita non la puoi controllare e c'è un grande mistero sulla salute e la malattia i santi consci del proprio nulla di non poter allungare nemmeno la vita di un minuto di non poter controllare nulla i santi che vivono di Cristo e Cristo vive in loro volendo solo la volontà del padre i santi e le sante che sono uomini e donne così sono incontrollabili sono uomini che non possono essere fermati da nulla né dalla violenza né dalla malattia né dalla morte sorridono liberi perché sono liberati dalle uniche cose che il controllo non può liberare la paura della morte e la paura di non essere amati il santo non ha paura della morte non perché naturalmente non ce l'abbia è terrorizzato come chiunque ma si fida fa il salto sia fatta la tua volontà o padre e sa di essere amato non credete alla santità di chi perché quando tu credi veramente di essere amato e veramente non hai paura della morte è tanto facile vincere mollando e lasciar perdere e lasciar parlare e lasciar dire e lasciar vivere e lasciare che la vita vada senza possederla e senza controllarla ecco adesso c'è un momento molto importante vi chiedo in questo momento custodendo il silenzio vi chiedo compagniati da e chiedo per favore di ecco di condividere cioè scrivete può essere una domanda può essere un pensiero continuiamo il nostro incontro prima però volevo leggervi un'email che ho ricevuto prima di questo passo prima di andare al momento delle domande chi deve preparare i cestini cominci a muoversi caro padre Maurizio del controllo ai cinque passi si fa come voglio io caro padre Maurizio ti scrivo perché il tema dei prossimi cinque passi come sempre ci riguarda tutti e mi tocca molto sono sempre stato senza freni nella vita pensando di poter fare tutto quello che mi passava per la testa ma le cose non vanno come vogliamo noi il buon Dio mi ha fatto saltare tutto quello che avevo costruito maldestramente in questa vita ansiosa e angosciata tra perdite di amici perdite della famiglia e del figlio non in modo drammatico con la morte una perdita però non ci sono più affettivamente perdita dei soldi oggi mi ritrovo quasi senza nulla di quello che un tempo pensavo fosse parte essenziale del vivere restano quindi qui limiti che volevo superare e forse proprio perché Gesù è intervenuto frenando e svelandomi l'inutilità di una vita senza freni perché forse sta proprio nel senso del limite il senso stesso della vita capire che senza questi limiti e senza quei freni non possiamo capire cosa ci facciamo qui e allora intuiamo che solo Dio è il senso della vita e in Lui possiamo ritrovare la vera vita senza limiti un abbraccio io sono da sempre una che controlla tutto e vuole che tutto fili liscio gli imprevisti non li so gestire questa catechesi è illuminante per la mia vita il difficile fare silenzio l'ultima parola è sempre la mia e mollare tutto la mia fede deve crescere e molto io ringrazio Dio perché mi ritrovo molto in questa descrizione naturalmente come attitudine come carattere e quindi benedico quei momenti della vita che semplicemente quelli che tu chiami cose brutte ma sono cose che tu non puoi controllare quando accade qualcosa che tu non puoi controllare che ti lascia e quindi ti fa sentire povero facci caso in un certo senso ringrazia per questa cosa perché in realtà quella cosa lì ti obbliga ad andare da Dio ti obbliga a correre da Dio l'unico al quale puoi affidare quel dolore talmente martellante quella situazione che da solo non riesci a gestire quindi in un certo senso le situazioni che non riesci a controllare quelle imprevedibili quindi non si parla semplicemente io non sto parlando del nervoso andando in motorino per le vie di Roma che sei arrivando in ritardo e mandi a stendere cioè quello licenza poetica cioè non è una cosa molto grave il conto è perdere il controllo quando questo diventa qualche cosa che è diverso ad esempio è scegliere in un certo punto ho scelto di non andare più a guardare perché io a me stesso mi sono detto questa cosa che io sento in coscienza che era la verità io andavo a controllare andavo a spiare andavo a vedere che foto era stata ammessa che cosa era stato detto e mi sono detto che questa cosa qua non si può fare ci sapevo che stavo spiando che stavo controllando sì ho rinunciato ma rinunciato e sto molto meglio ho mollato tante cose ho mollato e tutte le cose che ho mollato mi sono ritornate cioè quando veramente sono stato sicuro di averle mollate in Dio lasciate in Dio me le sono sempre ritrovate di più di quanto potessi sperare è molto meglio San Tommaso dice sempre in ogni luogo la verità anche se capire cosa sia la verità è assai difficile ma allora come facciamo a mollare ma non preoccupatevi prima o poi si molla perché bisogna mollare anche l'abbandono perché lo dicevano certi direttori spirituali ad alcune alcuni figli e figlie spirituali vindicavano l'abbandono uno è un padre gesuita De Cossad ha scritto questo grande libro sull'abbandono sull'abbandonarsi Dio e naturalmente qualcuno entrava in crisi perché entrava in competizione sul volersi abbandonare e allora diceva che infine bisogna anche abbandonare l'abbandono cioè abbandonare questo sentimento di abbandono e bisogna semplicemente io trovo essere razionali cioè capire che è la vita cioè le persone che ho davanti ma è razionale io non posso sapere anche se anche se a me piace quando mangio guardare negli altri tavoli quando mangio fuori chissà la vita intruschiare ma è tutto sballato sono tutte ipotesi campate in aria puoi azzecare qualcosa ma soprattutto i pensieri altrui non li puoi sapere perché ad esempio ho letto questa email di qualcuno che è vicino perché mi è stupito nella mia visione non riuscivo non era preventivabile perché tu non sai mi sono reso conto tu non sai come è fatto una persona che vedi tutte le mattine non sai cosa gli passa dentro quindi è la vita stessa che non è e poi obbedire a Gesù sì in un certo senso obbedire a Gesù ogni giorno basta la sua pena quindi preoccuparsi del futuro vietato ogni giorno basta la sua pena cioè ti dice guarda innanzitutto ti dice che oggi c'è una piccola pena porta la pena di oggi ma ogni giorno basta quella accontentati golosone non voler andare a ipotizzare le pene del futuro a mettere una bella assicurazione sulle pene future voler ti parare da tutto ci potrebbe essere il rischio che mollando troppo si arrivi a diventare una persona senza carattere che non prende posizione tiepida come si fa a controllare in figli in senso educativo io penso che qua bisogna ripeto la capisco l'obiezione a me aiuta semplicemente stare fermo sulle cose che Gesù mi dice di mollare non innanzitutto a caso e su tutto mollare non significa naturalmente non educare però fondamentalmente poi alla fine fine accettare che è correre un rischio e che avere un figlio è un terribile rischio e che poi ci sarà il momento in cui è un'educazione a lasciarlo andare e a lasciarlo andare perché a un certo punto sto figlio dovrà camminare lui non si potrà parargli tutti gli errori e tutte le cose per quanto alla fine è lui che deve andare quindi ecco perché Don Giussani parlava di rischio educativo perché tu puoi semplicemente puoi dare tutto l'amore possibile tutta la testimonianza tutta però poi alla fine ma qual è il punto fondamentale che se tu amamonte ma molto amonte non pensi che la morte sia un assoluto neanche per tuo figlio e il pensi che tuo figlio e credi che è amato da Dio a prescindere da quello che può accadere beh allora la prospettiva cambia completamente c'è la cosa difficile è credere quello la santità è credere quello non avere paura della morte io capisco che la cosa più difficile a volte è per i propri cari per le persone che sono affidate a te per le persone più lo accetto è vero però lì c'è la vicenda stessa di Gesù che è impressionante sto leggendo un libro che mi sta veramente mettendo in crisi è un libro che mi è stato regalato lo scorso Natale ho iniziato adesso a leggerlo parla del forse fatica anche ripetere il nome perché è impronunciabile comunque parla del genocidio degli armeni è una mappazza di libro così non so quante migliaia migliaia di pagine un libro storico un po' come il cavallo rosso come guerra e pace come questi libri e mi pone un problema perché di fronte all'abominevole decisione dei turchi di obbligare gli armeni di andare verso il deserto in delle marce forzate senza pietà non potendosi portare niente senza cibo dove questi morivano ai bordi delle strade come mosche c'è un uomo che a un certo punto ha capito la male parata e nella suo territorio comincia una forma di ipotesi di resistenza ha un informatore che gli dice guarda tra tre giorni vi verrà dato l'ordine che anche voi dovete mollare tutto e partire per una di queste marce e lui sta organizzando una fuga in montagna cioè studiando il territorio portando tutta la popolazione mi interroga molto questa faccenda qua ma se ci fosse da difendere i bambini i nostri bambini i bambini del catechismo le persone se bisognasse difendere le donne dalla violenza sessuale di mostri che arrivano eccetera come ci comporteremo cosa faremo cosa si deve fare è una situazione estrema certo però riflettere a volte ogni tanto alle situazioni estreme ti aiuta anche un po' a ridimensionare la rischiosità i problemi della vita anche pensare che persone nella storia hanno dovuto vivere e ci sono persone che stanno vivendo momenti così hai detto bene solo la fede o un grande dolore possono donare questa consapevolezza possono insegnare che controllare non solo inutile ma spesso addirittura disperante però questo è un mondo che il nostro malgrado perretende controllo infatti è in costante crescita il numero di ansiosi sì naturalmente i cinque passi si intersecano come si fa allora a mollare qual è il luogo dove si molla io personalmente conosco solo la preghiera io conosco solo quel momento in cui decido di spegnere tutto e consegnare tutto poi uno può per questa preghiera per alcuni può venire nella propria camera può venire in una chiesa davanti a un tabernacolo può venire spegnendo veramente tutto cioè perdendo un attimino il controllo e lasciando tutto veramente abbiamo bisogno anche plasticamente in certe ore di spegnere tutto e di dire magari durante una passeggiata in un parco ok quella passeggiata di mezz'ora prima di rientrare anche nel proprio quartiere proprio intorno a casa ok quella un po' spento estragnati prima di entrare venti minuti dicendo al santo rosario oggi ho saputo di un ragazzo che ogni giorno nella sua vita alle tre non lo trovi lui alle tre cascasse il mondo dice il rosario e tutti lo sanno sanno che questo alle tre dice il rosario è inutile cercarlo perché lui alle tre dice il rosario e dalle tre al tre un quarto tre venti non lo trovi perché sta dicendo il rosario che si sappia bello perché sta dicendo con un gesto che ci sono dei luoghi degli spazi degli argini in cui tu fai una cosa molli a chi a Dio i tuoi sentimenti io amo questa persona io amo queste persone signore cosa si deve fare cosa significa difendere il debole perché è giusto difendere il debole difendere le persone più fragili non si esce dal catechismo occorre organizzare una difesa delle persone fare quello che però a un certo punto diverso è quando c'è la volontà di un altro che vuole andare a un altro ad esempio oppure voler controllare quello che non si deve controllare o che non si può controllare hai il terrore di non essere amato vuoi controllare verificare se sei amato quella roba lì non si può fare ma nessuno la può fare è vietato caro padre maurizio spesso mi rendo conto del mio eccessivo bisogno di controllo cerco di lasciarmi andare di mollare ma per il senso del dovere ma poi il senso del dovere mi blocca di nuovo vorrei fare una considerazione al di là del fatto che vedete due aspetti uno che noto dalla realtà come i passi sono diversi ci sono dei passi in cui il passo di gennaio a causa del freddo c'è pochissime persone oggi il tema è scottante quindi è talmente scottante che fa caldo le prevedere quindi vuol dire lasciamoci consolare dal fatto che il problema del controllo non è va bene ci sono situazioni che possono essere patologiche ma il problema del controllo è nostro non è innanzitutto dire non è nostro non è tuo è mio è nostro qua stiamo dicendo con la nostra presenza fisica che di molti di noi sarebbe divertente dire chi non ha il problema del controllo che è già santo che non ha paura di morire che ha alzi la mano tranquillamente ok c'è qualcun altro scherzavo c'è qualcuno che vuole lanciare la mano dire io io non controllo mai nessuno io io mollo sempre io non puntualizzo mai io non voglio mai avere l'ultimo cioè è un problema di tutti noi perché è un po' una conseguenza tipo non so il peccato originale avete sentito parlare cioè questa tendenza essendo fatta immagine somiglianza di Dio poi ci dimentichiamo e crediamo di essere Dio cioè capite questa è la cosa siamo fatte immagine somiglianza di Dio e poi di colpo ci dimentichiamo che non siamo Dio e crediamo e quando diciamo io è molto vicino a Dio crediamo che il nostro micro mondo di sei vie di quattro scemenze sia il centro dell'universo se invece rimettiamo Dio al suo posto e ci sì sottomettiamo inchiniamo il capo il fatto che c'è una provvidenza di Dio e anche nel caso in cui perché Gesù lo contempla ci fosse il caso in cui possono ucciderti il corpo te lo anticipa qualcuno può ucciderti il corpo ma non può prenderti la cosa più preziosa quindi stai tranquillo al massimo ti possono ammazzare e non è la fine della partita non è la fine di tutto quando tu vivi di questa fede è chiaro che allora si capisce perché Gesù dica di pregare sempre senza stancarsi perché senza una preghiera costante tu non entri in questa fiducia senza lo Spirito Santo tu non arrivi ad avere l'abbandono di Gesù al Padre e attenzione noi non possiamo essere mollare l'unico che ha veramente disteso le vene è Gesù che ha allargato le mani veramente una posizione un po' scomoda quella della croce uniti a lui per potenza di Spirito Santo possiamo arrivare a dire Padre nelle tue mani consegno il mio spirito cioè perdo il controllo e mi fido di te cioè non è proprio capito che allora tisanina ok incensino ok luce vai ok respirazione respirazione importante mangiato posizione yoga perfetta sì ok perfetto ecco non è questo il controllo la salvezza non si controlla cioè la salvezza te la dà un altro cioè in questa frase la salvezza non si controlla di Nicolo Fabi cioè almeno il pensiero ah pardon siamo una giovane coppia di fidanzati come possiamo perdere il controllo cioè no nel senso scherzavo come possiamo perdere il controllo e buttarci nella vita matrimoniale ho fatto un po' il pagliaccio come possiamo perdere il controllo e buttarci nella vita matrimoniale ma semplicemente ad esempio perdete il controllo lasciate tutta l'organizzazione agli altri ma che te frega di quello che mangi dopo due anni non te lo ricordi più che cosa hai mangiato come ti sei vestito e gli inviti invitiamo qui e là i libretti le fotografie i fiori ma chi se ne molla come il mio matrimonio molla lascia perdere tanto come buttarsi nella vita ad esempio pensare che il momento più importante è la messa tipo 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 il momento più importante è il sacramento che ricevi cioè che il pezzo forte è il sacramento che ricevi e non tutto il resto per dire e quindi ti prepari se la settimana prima pensi di poter essere distratto da tutto che si scatena fuori tu molli e dire io mi organizzo e faccio una settimana via come via via fate voi io vado vado a pregare oppure vado a sciare non so no prima di buttarsi nella vita e poi soprattutto mi sembra di sentire un po' di puzza di controllo sul matrimonio il matrimonio comincia col sacramento del matrimonio prima ricevilo poi ci vediamo ogni giorno basta la sua pena nudo uscì dal seno di mia madre nudo vi ritornerò ci riempiamo per spogliarci e raggiungere il cielo grazie Padre Maurizio eh già solo che è così è così effettivamente però solo la santità ti porta a vivere la verità vi renderà liberi c'è questa verità di Cristo che io sono figlio amato quando è vera è vera uno molla perché alla fine sorride cioè alla fine qualunque cosa gli succede ormai io sono amato da Dio e poi non muoio perché c'è la vita dopo la morte e anche se qualcuno mi può uccidere o anche ci sarà una malattia però non finisce qui la faccenda perché sono amato e assieme a Gesù sentirò lui che mi dirà dire signora io sono come il ladrone forse anche peggio del ladrone fallo anche con me ricordati di me quando entrerai nel tuo regno non fare preferenze oggi sarai con me in paradiso quando questa fede entra dentro di te allora ti viene data una grande libertà rispetto alle altre cose della vita padre Botta quanto è grande il mio peccato ho voluto il suo peccato e dicevo mamma saghi i miei peccati questo si assicuro sono molto il mio peccato di voler controllare sempre gli altri e me stessa senza mollare mai sì però non esagerare il nostro dai eh ok oggi diciamo il nostro va bene non il tuo il nostro siamo tutti così siamo tutti così per quello ho iniziato dicendo che ogni vita è una manifestazione di come controllare il rischio della vita cioè se analizzassimo le nostre vite sono tutte delle forme di come gestire questa vista rischiosa e cercare di controllarla cioè non è che chi poi può essere fatto in modo più quante domande mamma mia impressionante che differenza c'è tra controllo gestione dominio eeeh wei karma karma gesso sono sinonimo ci sono sfumature che no 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 mi tiro fuori perché non lo so controllo gestione dominio mi sembrano un modo di parlare un linguaggio di tipo che viene dalla psicologia quindi io non sono psicologo e quindi scusatemi non mi inoltro perché se no uno quando non sa io non lo so ecco questa la sola distinzione tra queste parole nel contesto in cui vengono utilizzate scusate qual è il limite con l'ignavia l'indolenza e il nichilismo io vorrei dire ma io di gnavi cioè proprio di gente proprio che non è che ne vedo proprio così a me sembra che la voglia di controllo al di là di tutto sia molto forte anche la dipendenza dal cellulare è una forma di controllo vorrei ribadire perché il controllo continuo di una situazione cioè di una rappresentazione controllabile della vita cioè nel tuo telefonito la vita è controllabile ti obbedisce va tutta più o meno come vuoi tu è un'illusione tutti tutti soffrono di questa tendenza al controllo a volte se volete visto che la vita non è controllabile vabbè allora non ci gioco più e ti lascia andare però è ancora una volta il fatto che non sei riuscito a controllare le cose come volevi tu la questione cristiana è semplice Dio ci ama giusto e secondo la sua volontà ci lascia liberi di scegliere se amarlo a sua volta tuttavia viviamo la nostra vita terrena controllati e controllando e il dubbio sorge se e dove allora l'amore e la volante di Dio controllano la nostra vita e come lo so il problema è proprio fidarsi della rivelazione cioè dicevo quali sono i due libri uno la creazione cioè ogni tanto avere un po' il senso delle proporzioni ti aiuta cioè vedere la tua vita in proporzione alla storia lasciamo stare l'universo la storia dell'umanità io tutte le messe lì in sacristia adesso che c'è tutto questo questo castello leggo sempre in numeri romani la data molto attento alla messa 1640 1640 e quindi stavo pensando tra 15 anni saranno quattro secoli che la gente calpesta sto marmo davanti all'altà 1640 ma ti aiuto un po' a ridimensionarti a pensare che quel marmo era lì e c'era l'unità d'italia c'è napole una rivoluzione francese tutto il barocco questa ti aiuta un attimino la ragione la ragione perché non diamo più spazio alla ragione guardate sembra un tempo razionale ma non è razionale perché noi non riflettiamo mai darsi anche semplicemente il tempo per pensare e non fare altro il tempo di annoiarsi il tempo di pensare non è un lusso è pensare non è che qualcuno è te se te puoi anche pensare beato tu che hai il tempo per pensare noi poveri umani mi sembra che si sia una sorta di congiure che ti pedici se pensi usi la quindi il libro della creazione ragionandoti ti aiuterebbe un po' a ridimensionare questa roba del controllo dall'altro lato accogliere quello che dice Gesù la rivelazione non hai potere di rendere bianco nero un tuo capello non puoi allungare di un'ora la tua vita guardate i geni del campo non filano non mietano hanno un bianco che non può essere replicato non cade neanche cioè c'è una provvidenza del padre su di voi qualunque cosa accada che vede addirittura la vedova che non vede nessuno che getta i pochi spiccioli nel tesoro quindi per voi sarà lo stesso tra dominio di sé e essere senza freni in Cristo c'è un nesso se sì quale sì il dominio di sé essere senza freni in Cristo significa appunto l'elenco di tutte quelle cose ad esempio dominio di sé perché a un certo punto molte volte taci molli cioè quando ti rendi conto ad esempio in questo la vita nostra della nostra comunità cioè come oratoriani intendo non di questa comunità di Roma ma in generale come oratoriani il fatto di vivere tutta la vita con gli stessi confratelli se c'è contemporaneamente una vita di preghiera ti porta in un certo senso a mollare perché capisci che il confratello conosce meglio di sé le sue fatiche le sue le sue incapacità le conosce cioè non è che ha bisogno che tu stia lì ti 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 a un certo punto molli e allora taci cioè non è che stai lì a e quindi in un certo senso c'è un dominio di sé all'inizio non ti viene così spontaneo capisci che è irrazionale lasci perdere però c'è un dominio di sé un controllo di sé ma perché il dominio di sé potremmo dire che ci deve essere sempre ma accompagna quella che è la cosa più potente c'è l'azione dello spirito di Cristo che quello ti porta a a vivere tra virgolette senza freni libero ecco potremmo dire da persona veramente libera buongiorno e grazie secondo lei è possibile avere un sano controllo sui figli e in che misura io penso che davvero sono molto neembriniano su questo lo ripeterò tante volte cioè il figlio guarda cioè non so guarda guarda i tuoi occhi guarda come guardi tu le cose sei sposato sei figli sì quindi cosa gli piace basta ricordare quando eri bambino e ricordare cosa ci piaceva a noi ci piaceva quando c'è il papà e la mamma si guardavano con stima con affetto cioè un bambino non gli piace che il papà o la mamma si guardino con disprezzo quella roba lì ad esempio è fondamentalissima per educare i figli e veramente si pensa educare i figli si pensa tutte altre cose mentre quella è l'unica roba veramente educativa che un figlio impari da un papà come si guarda con stima una donna e viceversa che un figlio guardi da una mamma come si guarda con stima una figura maschile cioè che nella mamma veda che il papà è una figura stimabile che la mamma lo accompagni anche quando fa delle cose che non si capisce a capire le fatiche però non distruggere la figura del padre viceversa un padre che guarda con talmente gratitudine venerazione alla mamma per quello che per quello che fa per come dice che accompagna il figlio in questa stima questo è educativo quando tra virgolette hai vissuto questo rimane quello di non puoi annullare i rischi della vita come affrontare il tema delle tentazioni Gesù proprio nel Gezzemani chiede di vegliare oltre che di pregare vegliare è simile a sorvegliare custodire se stessi e gli altri veramente chiede di pregare cioè pregate e questi si addormentano vegliare vuol dire uguale pregare non è questa una forma di sano controllo cui non dobbiamo rinunciare ripeto vedete questa è un po' un'estensione del brano evangelico cioè vegliare in quel brano lì significa vegliate pregando non siete stati in caso di vegliare uguale a pregare lo dice chiaramente pregate con me non lasciatemi solo pregare preghiamo insieme ecco perché Gesù dice che la cosa più difficile è pregare sempre senza stancarsi senza stancarsi non mollate vi viene da mollare no andate avanti quando ci si affida completamente a Dio e gli si concede di operare per la nostra vita secondo la sua volontà la morte del corpo avverrà quando egli lo permetterà e ci riterrà pronti per la vita eterna sicuramente è molto potente questa domanda nel senso che il fatto che quando Gesù dice non potete allungare di un'ora sola la vostra vita cioè ti sta dicendo che c'è un mistero nella vita di ognuno noi non sappiamo perché alcune sono più lunghe altre sono più corte altre sono più semplici altre oggettivamente sono più tribolate questo è inutile cercare delle spiegazioni perché non non si sa è inutile una cosa invece volevo dire l'idea che alcuni hanno di affidarsi completamente a Dio questo è molto importante alcuni hanno questa idea che sia una cosa che una volta fatto è fatto ormai sono abbandonato a Dio fatto questo è ancora spirito di controllo perché non è così ogni secondo che viviamo ha in sé la sua pena alla morte e rinunciare al controllo di ogni istante di ogni singolo momento cioè a ogni respiro occorre ridare tutto a Dio e lasciare che Lui ci riempia ogni volta del suo amore a ogni cosa che facciamo e allora lì nessuna diventa banale ecco perché ad esempio i passi io li sento sempre vivi perché uno potrebbe dire ma adesso che passo numero è quanti dei fatti non c'è routine perché ma non c'è routine perché non c'è routine nemmeno nel stasera lavarmi i denti perché quando ti la vedi e ti dico vabbè che differenza c'è tra lavarsi i denti e fare i cinque passi con fede offro Dio sputo poi c'è la poi c'è la tutta la regola devi almeno passare cioè poi tutte le regole perché c'è anche il decalogo di come ci si lava i denti il decalogo come ci si lava le mani il decalogo di come si deve andare di corpo il decalogo di cosa devi mangiare i dieci cibi che devi evitare c'è uno ha la testa sempre piena cioè hai rinunciato a dieci comandamenti e ne hai 250.000 nella testa ma per ogni cosa la corretta posizione con cui starei seduto ah no sono seduto male come devo dormire di lato si è sbagliato dormire di lato ma allora no devo dormire di pancia forse va meglio no no di pancia no è sbagliatissimo perché alcuni dicono che devi dormire un po' di lato e un po' di pancia ah un po' di lato e un po' di pancia e poi quando vado in bambina ah troppe luci accese in camera troppe no no non lo spente tutte le luci eccetera capite ecco ma questa è la nostra vita cioè abbiamo rinunciato a dieci comandamenti e come dei moderni farisei ce ne troviamo a ogni cosa che facciamo 700 miliardi di comandamenti su tutto vabbè contenti noi questo passo di oggi sembra proprio se è stato scritto per me eh solo per te no anche per me dai anche non solo per te per una mia cara collega e amica per una mia cara una per allora scusa una mia cara collega amica è nata al cielo lei ha deciso non so non sono discursiva ha deciso di mollare e di consegnarsi a sorella morte rinunciando ad ogni trattamento alle cure che non l'avrebbero permesso lunga vita a volte bisogna alzare le braccia e abbandonarsi a lui pur contro la forza della vita non so penso che davvero ci sia un il momento della fine della vita è un momento dove si può ancora vivere questa forma di abbandono completo nel padre accettando quello che viene chiaramente quando non c'è stato mai nella vita è difficile viverlo all'estrema momento della vita e io personalmente credo che di leggere qua è una persona che ha rinunciato a un accanimento terapeutico ho capito che non c'era e ha deciso tutto una scelta non solo condivisibile non esprimo nessuna opinione parere e tutto la capisco molto ecco può essere più dolce dire signore mi è stato detto dai medici che intanto le cure non cambiano bene quel che l'è quando sarà il momento accolgo gli ultimi istanti che vivo e li vivo consegnato a te rimane il fatto che è tutto lì padre nelle tue mani consegno il mio spirito e lui ci fa partecipare di questa consegna al padre o non siamo amati e siamo soli questa è la grande domanda siamo amati o no sono amato o no ma non è che chi crede di essere perché chi veramente crede di essere amato è nella pace non è più bravo di un altro ecco non è più bravo più buono e invece chi non ci crede è cattivo no queste sono visioni veramente becere non sono cattoliche ecco sono sbagliatissime non so dirlo diversamente però è vero che chi entra in questa fiducia con la forza di Gesù afferrato da Gesù e dice non sono più io Cristo che vive in me arriverà come Gesù a dire se possibile allontana questa cosa qua però si è fatta la tua volontà e poche ore dopo dire nelle tue mani consegno il mio spirito e dire ricordati di me quando entrerai nel tuo regno e sentire lui che ti dice oggi sarai con me in paradiso ecco questo fin di qui così proprio delimitata su questo è la via per risolvere l'unica cosa incontrollabile e che non controllerà neanche l'intelligenza artificiale cioè la morte non la controllerà sapete sono molti in difficoltà perché è ora di finire perché faccio ancora qualche domanda però perché sento che è un incontro molto importante è vero abbiamo bisogno di controllare ma quasi ma guai a essere controllati con la ragione capisco che devo riporre tutto in Dio e non tenere nulla ma come si fa a dormire sereni quando sai che un figlio ti nasconde cose importanti non vuole aprirsi e confidarsi prego tutte le notti per loro prego i loro angeli li metto sotto il manto della madonna celeste il bisogno di controllo è sempre in agguato però vedete a volte noi vogliamo anche controllare la madonna e gli angeli cioè li immaginiamo come dei super poliziotti cioè capito Texas Rangers io sono qua andate voi inseguitelo controllatelo pensateci voi è un po' diverso abbandonare il controllo e dire dolorosamente infatti ho detto prima la fede è solo quando sinceramente veramente e dolorosamente perdi il controllo della situazione e veramente dici tu li ami più di me ecco la conversione tu li ami più di me quindi basta non è basta continua la battaglia cioè non è basta dire va bene ok tu li ami più di me però chissà cosa sta succedendo ora vietato non puoi immaginare cosa sta succedendo ora magari in questo momento proprio esattamente adesso 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 che io sono qua tranquilla che sto poggiando le teste sul cuscino in quel momento mio figlio in motorino nella notte di Roma e io non lo so e magari arriva capite tutto vietato questa roba qui è vietata non si fa non aiuta è inutile è stolto irrazionale e soprattutto non vuol dire bisogna combatterlo contrastarlo contrastarlo perché vuol dire non avere fede bisogna combatterlo non è l'ultima email mostrava come non avere freni sia negativo il controllo può essere inutile può essere inutile o conto producente dai aiuto non ho capito vabbè l'ultima email mostrava come non avere freni sia negativo ok quindi il controllo può essere dovrebbe essere utile quindi può essere in alcuni casi non ho capito come distinguere concretamente controllo e autocontrollo dal discernimento che in ogni frangente della vita ci è richiesto come distinguere concretamente controllo e autocontrollo dal discernimento che ogni frangente della vita ci ha richiesto ma non mi avventuro perché poi a volte bisogna anche valutare il singolo caso la singola situazione e di cosa stiamo parlando perché bisogna proprio capire di che cosa stiamo parlando in una situazione particolare calare in un caso cioè in questo caso in questo noi siamo fatti così e questo serve il consiglio con qualcuno o l'opinione anche di un amico ma tu in questa situazione che cos'è sto controllandola oppure semplicemente non è che sto controllandola faccio un discernimento normale cioè in questo istante io sto controllando la situazione esercito perché ho detto ho fatto ancora qualche domanda adesso mi sembra di percepire che basta è un discernimento è un autocontrollo non lo so è un po' come la domanda delle capito che vi si distinguono i termini cerchiamo di riservare quello che abbiamo detto per le cose veramente importanti cioè per gli argomenti fondamentali della vita e sempre lasciamo perdere il controllo sulle micro cose torniamo alla questione fondamentale cioè paura di non essere amati e paura della morte convinti che perdendo la paura di morire e perdendo in Cristo per la fede in Cristo e perdendo la paura di non essere amati perché siamo amati allora a quel punto lì ci sarà più facile vivere con libertà le cose della vita questo lo darei come sintesi finale allora prossimo passo lo scarto davanti a voi ah caro amico me l'hai rubato un'altra volta sì visto quando l'avevo detto non l'ha fatto adesso glielo ridico spera solo nella mia grande libertà e nella mia assenza di controllo di non incontrarmi mai perché il giorno che ti vedo lì che lo stai staccando uuuuuh non so se riuscirò a controllarmi rischierò di essere senza freni ecco allora rubare è un grave peccato ecco volevo dirtelo c'è uno che si ruba tutti i manifesti questi qua in pvc è un problema gode sull'arte di accontentarsi cioè chi si accontenta gode e c'è questo bambino che si accontenta di stare con il suo cagnolino 17 febbraio ore 16 quindi ah qua ci sono i manifesti qua non sono stati pigliati dai distributori distributori li avete lasciati qua li avevate presi per caso quindi non so chi c'è lascio quindi questo è il prossimo passo poi se qualcuno non è raggiunto dalle informazioni e vuole essere raggiunto ci sono due possibilità o su youtube c'è il canale di oratorium si scrive e quindi quando c'è viene avvisato oppure nel blog dei cinque passi proprio blog c'è sulla destra la possibilità di scriversi alla mailing list ed essere avvisati a ogni passo in fondo chiesa c'è una qualche articolo così diciamo per perdere il controllo bocca al lupo e e poi no per qualcosa così qualche un mercatino di rinforzo dopo quello di Natale perché ci sono delle cose nuove ecco e prima della benedizione volevo c'è scritto qua di ricordare la faccenda del 5 per 1000 la ricordo per chi la sa già l'invito a spiegarla per com'è il 5 per 1000 non è una tassa non spendete neanche una lira in più se non lo destinate verrà destinato ad altri se lo destinate già a qualcuno una piccola associazione continuate a farlo e non datelo se volete aiutarci a noi vi assicuro che anche poche firme cioè un centinaio di firme di 5 per 1000 possono cambiare lo sguardo di una associazione possono trasformarsi anche in lavoro per qualcuno quindi veramente questo pensateci ecco pensateci o fatelo pensare a qualche amico benedizione il Signore sia con voi vi benedica Dio Onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo buon riposo Dio Onnipotente Grazie a tutti.